A te, lo dobbiamo fare. L'amico nostro ci ha chiesto, mica come favore. Così abbiamo due piccioni con la fava. Fiamo un favore a lui e fiamo un favore a noi. Fallo fa stasera, Vito. Usa gente che non sa niente a che fare con noi. Caro, tranquillo. Mi stai chissando? Siamo pronti, dottore. Possiamo cominciare. Siamo pronti, dottore.